Scusa Se ce la facciamo E se io ti faccio mettere il cappellino E ti abbraccio E tu mi dici Pikachu Mentre ti abbraccio col cappellino in testa Ok, allora Quando ti abbraccio devi urlare Pikachu Va bene? Ok Pikachu Eeeh Grazie a Dio Grande, grande Una mano a lui che ci sta al gioco Vai grande Allora E poi alla fine Io non capisco nulla Poi Pikachu Questo è il momento dei contest E ho vinto Ha vinto il primo contest Edoanzo Uccino Lei è? Vittoria di Dio Il 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 Dio E' un clitoristo A presto! E noi siamo qui con Francio Ciao E quindi nulla Vediamo così Il radunello che si è fatto Francio è quello del carrello Aiuto E quindi Ciao 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 Ciao